Un giorno il mio principe verrà, un giorno lui prenderà la mia scarpa, la la la, la la la, la la la, un giorno, ma cosa succede con il maccio vittorriese? E per risolvere questo piccolo problema faremo un concorso d'amore per sapere chi sarà il mio marito. Allora Franco e Francesco vi conoscete? Bene, perché ora siete nemici! Franco, ci stiamo lavorando! Iniziamo a assomigliarci! Ah! Ah! Aspetta! Ah! Aspetta! Vi ha beccato! Ah! Aspetta! Aspetta!